Ieri, nel tardo pomeriggio, si è tenuto un consiglio comunale monotematico, dove si è discusso dell'organizzazione e programmazione degli eventi natalizi. È stato anche il primo consiglio comunale passato all'opposizione per i due ex pentastellati Nina Schirmendi e Marco Matta, che in settimana sono transitati al gruppo misto. Adesso la maggioranza conta 10 unità, mentre l'opposizione sembra essere diventata la nuova maggioranza, dove si vantano ben 14 unità. Sotto la lente di ingrandimento, i due assessori Grazia Gianmusso e Fabio Caracausi, che prima hanno ascoltato i vari capigruppo dell'opposizione che lamentavano il non riuscito evento natalizio e dopo hanno replicato. Da segnalare l'intervento del consigliere di Fratelli d'Italia Gianluca Bruzzaniti, che lamentava l'esiguo costo degli eventi natalizi che ammonterebbe a 100.000 euro circa.